50 euro ed una Fiat 500 vecchio tipo. È il magrissimo bottino di una rapina ai danni di una coppia di anziani di Ceglie Messapica nella villa in campagna di Contrada Giancamisa dove i coniugi Verardi vivono e trascorrono le loro giornate. L'episodio criminale si è verificato intorno alle 18.30 quando Antonio Verardi, 78enne di Ceglie Messapica e sua moglie erano nella loro casa di campagna ed hanno sentito bussare alla porta d'ingresso e una volta aperta, la credendo potesse trattarsi di parenti in visita di cortesia, si sono visti davanti due uomini armati di pistole e con in testa il passamontagna, immagine inequivocabile di una rapina in corso. I due malviventi hanno richiamato l'attenzione di entrambe le vittime ed hanno intimato loro di consegnare tutto il denaro presente in casa in quel momento. Evidentemente ignari che due anziani soli abituati a vivere solo con la pensione non potessero avere in casa somme di denaro consistenti, alla vista delle uniche 50 euro rimediate, hanno insistito per farsi consegnare anche le chiavi dell'auto di famiglia. Datata è sicuramente di valore inferiore alle aspettative, una Fiat 500 vecchio modello con la quale, dopo aver lasciato l'abitazione, i rapinatori si sono allontanati dalla villa. Subito dopo la rapina, gli anziani hanno avvisato i carabinieri, giunti dalla stazione di San Vito dei Normanni, che una volta sul posto hanno raccolto la testimonianza della coppia di anziani ed effettuato i rilievi del caso. Da quanto è dato sapere, le indagini sarebbero indirizzate verso pregiudicati della zona già gravati di accuse per reati dello stesso tipo.